E' Giuseppe annunziata il neosegretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli. 44enne consigliere comunale di Poggio Marino è stato eletto con ampio prebiscito nell'assemblea di venerdì 31 marzo all'Utel Ramada di Napoli. Così all'indomani dell'investitura del timone del PD della più grande provincia della Campania, annunziata inizia il proprio mandato politico facendo visita alla realtà di Torre del Greco, la città osservatoria dell'intera regione alle prossime consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio. Ho voluto essere presente qui stasera, il giorno dopo la mia elezione, perché questo è il comune più importante che va al voto, dove credo che il PD abbia fatto un ottimo lavoro, una coalizione ampia di centrosinistra, fatta di persone volenterose e per bene, con alla guida un candidato sindaco autorevole di grande spessore che saprà fare grandi cose per Torre del Greco. Per quanto riguarda l'area metropolitana sicuramente l'obiettivo principale da un punto di vista di opere pubbliche è senz'altro la balneabilità, un grandissimo lavoro che si sta facendo per restituire il lungomare balneabile da San Giovanni a Teduccio fino a Castellammare. Torre del Greco è una città fondamentale, prioritaria in questo progetto, pensiamo alle grandi occasioni di sviluppo che il territorio può avere con un territorio balneabile, una spiaggia che sta avendo il ripascimento, quindi si apre la possibilità davvero, non solo di una stagione, ma davvero la possibilità di un radicale cambiamento, mutamento del territorio impositivo. Ad accompagnare e supportare il messaggio del neosegretario nella città più grande dell'area metropolitana, la vicepresidente del Consiglio regionale, Loredana Raia. Siamo molto felici di ospitare come primo incontro dei circoli metropolitani qui a Torre del Greco Giuseppe Annunziata, neoeletto segretario metropolitano, un giovane, un professionista, nonostante l'età giovane ha una lunga esperienza alle spalle nelle istituzioni e nell'organizzazione del partito, quindi questo significa che abbiamo compiuto una scelta, sottolineo unitaria, nel segno proprio di una ripartenza che deve portare il partito metropolitano che, come mi piace ricordare, il PD governa in molti dei comuni dell'area metropolitana di Napoli e a Napoli e dunque questa condizione diventa per noi di buon auspicio perché anche a Torre del Greco alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio questa coalizione con il PD in campo possa finalmente governare la città di Torre del Greco che ha tanto bisogno di cambiare passo, saranno settimane di lavoro e di impegno gravoso, incessante, stiamo però facendo già un lavoro di scouting molto importante, c'è tanto entusiasmo, donne e uomini che rappresentano tanti mondi e diversi che stanno scegliendo questa coalizione, questo partito per provare a dare un contributo perché Torre del Greco torni ad essere la città dei fasti di quelli che sono stati i nostri avi, i nostri nonni, i nostri genitori. Torre del Greco merita molto di più. Lungo un momento importante a ciclo di via circunvalazione per lanciare l'azione amministrativa del candidato sindaco del centro-sinistra Luigi Mennella. Si riparte con il nostro amico segretario Annunziata, a me più caro detto Peppe Annunziata e subito si è precipitato qui a Torre del Greco, ci sono le elezioni amministrative, Torre è la città più grande dove si va a votare e quindi ha anche un test importante perché dopo le politiche vediamo che cosa succede a Torre del Greco. noi stiamo lavorando già da tempo come sapete, lo stiamo facendo, abbiamo contattato tutta la città, la città ne è consapevole, abbiamo costruito un programma partecipato, abbiamo sentito tutte le categorie, noi ci siamo, vogliamo il cambiamento e lo vogliamo totale, d'altra parte sotto gli occhi di tutto quello che è successo negli ultimi 15 anni, diamo una svolta effettiva a Torre del Greco, la diamo una volta per tutte. Grazie 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 Grazie